È evidente che la riqualificazione del quartiere via Marchetti Pergolesi centra e centra fortemente con il bando periferie e con il blocco dei fondi che questo governo ha operato ad agosto di quest'anno, dei soldi che erano stati stanziati e che debbono servire appunto per la riqualificazione di quel quartiere. Così il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli sul dibattito scoppiato giovedì in consiglio comunale a seguito delle interrogazioni dei consiglieri Daniele Berardinelli e Daniela Diomedi sulla situazione di degrado in cui verse il maxicondominio Exerap di via Marchetti e via Pergolesi. Un'area è balzata alle crone che nei giorni scorsi per la scoperta in via Pergolesi dell'appartamento covo del pusher nigeriano accusato di aver violentato più volte una giovane di 22 anni sotto l'effetto dell'eroina. Per quanto concerne la riqualificazione edilizia del maxicondominio, le gare d'appalto per i progetti sarebbero dovute partire lo scorso agosto con inizio dei lavori previsto per marzo, ma i tempi sono slittati perché ancora si attende la traduzione a norma di legge dei fondi per le periferie. 4,9 milioni di euro i fondi destinati a quest'area. La norma di legge ancora non c'è, è inserita un articolo nella legge finanziaria, quella che dovrebbe andare in approvazione in questi giorni, in queste settimane, ma la norma di legge ancora non c'è. Quindi noi stiamo aspettando quella e conseguentemente a quella che ci ridiano i soldi che hanno tolto il 6 di agosto, perché appena ci ridanno i soldi, quelli che già avevamo, noi siamo pronti per partire con la gara di appalto per i lavori per la riqualificazione del quartiere.